Carissimi colleghi, insieme agli amici del capitolo di chirurgia estetica abbiamo organizzato una giornata di approfondimento sull'impiego delle protesi anatomiche nella chirurgia della mammella. A parte la parte teorica, sarà comunque interessante perché ogni partecipante al corso avrà la possibilità di visitare singolarmente le pazienti, stabilire l'impianto adatto alla correzione del cono mammario ma soprattutto stabilire un parametro fondamentale, cioè l'esatta posizione del nuovo surco sottomammario. Credo che la parte più interessante sarà quella in sala operatoria. Lì con l'aiuto e l'ausilio di un'ottica da 30 gradi avremo la possibilità di seguire passo passo la preparazione della tasca in dual plane. Questo perché? Perché ci sono dei passaggi di tecnica fondamentali nello scolpire la tasca che servono a ottimizzare la tasca stessa e ridurre la percentuale di complicanze tipiche di questi impianti anatomici che sono 1. la rotazione degli impianti, 2. la copertura del polo inferiore degli impianti che è fondamentale per restituirci a distanza di tempo un risultato stabile e sicuro. Vi aspetto tutti quanti a Roma il 15 marzo nella splendida cornice dell'isola tiberina, qui da me!